Sono io che sono solari, grazie a tutti! Ciao! Peppe, grazie infinite! Grazie di tutto! Grazie a voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ho stato davvero, davvero fortunato a mattina. Questa volta un'allestorme, 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 che ci fu fuori. Peppe, il mio fratello Giorgio, e io, abbiamo trovato un'esercizio di emergenza. Perciò, ieri, 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 ieri. Ho spaventato la mia casa, in una bambina che ho restato, perché non è un'azienda per me, ieri, 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 ieri. E' un'azienda per la mia casa, con un gruppo di amici di un'ottima famiglia di loro 70, con cui si riuscano, chiamano, chiamano, dubbano che il miglioramento della nostra vita è ancora come se noi solo prendiamo l'azienda e continuiamo a vivere il presente. Il giorno 5 è inizia da stile, che mi piace abbastanza. This little town, like the others I've passate by, spend the night, at lunch, is not only gentle, quiet, relaxing, but also, I should say, absolutely healthy. The air I'm breathing is more than clean and fresh, pure. The food? Better, I don't talk about the food. I can only say that this county, Cilento, is considered the homeland of the Mediterranean diet. And I wish you know of which kind of tastes I'm talking of. On another hand, I'm seeing a lot of abandoned houses on sale, on rent, empty. I'm talking to locals, people of my age, with kids in age of mine. All their complaints are about difficulties for finding proper, but not open, schools for their kids. Proper medical assistance in the neighborhood. I wonder whether a pandemic originated in crowded areas, which spread faster and faster because of the high density of the population, will bring some changes to places like this. Can we better scatter around the globe? We are now about 15 kilometers, riding in this stunning environment, hearing nothing else but my breath, some noise from my bicycle and the sound of nature. Now, I'm aware that there is a gap between you and me. You are watching this whenever you are doing whatever you are doing, if you are doing on a screen. I'm riding here and right now. I can't really fill this gap. I can only try to inspire you to join the slowness, to join the nature and its rhythm. By the way, the funny group of over 70 cyclists and friends I met yesterday should suggest us that it is not a matter of age. Which is just the state of mind. And it is a great place. And the way you are doing the act of a triangle, I would like to see people who are standing in the middle of the valley. In this way, the island has a dark place, and it is not a matter of time, it is not a matter of time. Oili, oili, oina, che vai lasciando sì tu non me vuoi Oili, oili, oina, e passano sta bocca quando vuoi Oili, oili, oina, che vai lasciando sì tu non me vuoi Oili, oili, oina, e passano sta bocca quando vuoi Oili, oili, oina, rimana passi on la tena vai Oili, oili, oina, e passano sta bocca Oili, oina, e passano sta bocca quando vuoi Oili, oina, e passano sta bocca quando vuoi Oili, oina, e passano sta bocca Oili, oina, e passano sta bocca